In questo periodo storico così eccezionale, specialmente poi da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, molti hanno iniziato a familiarizzare con la geopolitica classica, cioè quella chiave interpretativa dei fatti che avvengono nel mondo attraverso la contrapposizione fra potenze, cioè la geopolitica cerca di capire cosa avviene studiando i movimenti delle potenze nazionali e quindi in questo caso abbiamo avuto la Russia che ha invaso l'Ucraina, Russia che si è alleata con la Cina in un cosiddetto blocco eurosiatico che si contrappone, almeno apparentemente, ai paesi occidentali che sono riuniti nell'alleanza atlantica, cioè nella Nato. Questa è l'analisi che più spesso sentiamo compiere. Ebbene, io nel mio ultimo libro, L'economia delle emergenze e delle pandemie alle guerre, introduco un altro, un'altra chiave interpretativa, un altro strumento di analisi per comprendere ciò che sta avvenendo, che è quello del mondo dell'alta finanza internazionale, cioè quello dei grandi fondi di investimento, delle grandi banche d'affari, che in termini di ricchezza sono enormemente più potenti dei singoli stati. Se pensi, solo per fare un esempio, che un singolo fondo di investimento come BlackRock gestisce oltre 10 trilioni di dollari l'anno, cioè oltre 10 mila miliardi di dollari. Un paese come l'Italia, che per quanto malandato è pur sempre la seconda manifattura d'Europa ed è una media potenza a livello mondiale, ha un PIL annuo, un prodotto interno lordo annuo di 1800 miliardi. Quindi capite quali sono le differenze di dimensione in gioco. Quindi secondo me non si riesce davvero a comprendere perché avvengono certe cose sul nostro pianeta se non si studiano gli interessi di questo mondo. Un mondo che appunto definiamo dell'alta finanza internazionale, c'è un mondo che si muove secondo logiche del tutto sovranazionali, che travalicano totalmente i confini nazionali e gli interessi nazionali e riescono in maniera pervasiva ad arrivare in tutti i paesi del mondo, compresi quelli non occidentali come Russia e Cina. Questo è confermato, questa chiave di lettura, da alcuni fatti che stanno accadendo in queste settimane in Cina. In Cina, esattamente come è accaduto nei paesi occidentali nel 2007-2009, è scoppiata una bolla immobiliare. Tutti questi anni la banca centrale cinese ha inondato i mercati sia finanziari che immobiliari di liquidità e questo ha provocato una bolla immobiliare. Cioè delle grandi società di costruzioni hanno costruito milioni di appartamenti, molti dei quali sono stati acquistati dai cittadini cinesi sulla carta, accedendo a mutui che venivano concessi con una certa facilità. Oggi questa bolla è scoppiata e i cantieri sono fermi. Le case comprate sulla carta e già pagate, attraverso mutui, non vengono consegnate. Questo sta provocando forti proteste comprensibilmente da parte degli acquirenti di questi appartamenti. Si parla di quasi 2 milioni di unità abitative acquistate e non consegnate e una conseguente reazione autoritaria repressiva da parte del governo cinese, che sta addirittura in alcune città schierando carri armati per le strade, che ha bloccato conti correnti bancari di cinesi che per protesta avevano smesso di pagare il mutuo, dato che le case non vengono consegnate. Vi racconto queste cose perché sono la conferma di quello che vi dicevo all'inizio, cioè che i fenomeni dell'alta finanza internazionale e le logiche del mondo dell'alta finanza internazionale arrivano dappertutto, anche in un paese comunista come la Cina. Si considera che il colosso delle costruzioni cinese Evergrande, di cui avrete sentito parlare probabilmente nei mesi scorsi che è in grande difficoltà a causa dello scoppio di questa bolla immobiliare, ad esempio vede tra i suoi azionisti il nostro BlackRock, tanto per intenderci. Una delle più grandi banche cinesi a controllo statale, che è la Bank of Communications, che è pesantemente in crisi a causa dello scoppio della bolla immobiliare, proprio perché i mutui che ha erogato non vengono più pagati a causa dello scoppio di questa bolla, noi troviamo che la Bank of Communications, che sulla carta è una banca statale cinese, che vede nel suo azionariato sì il governo cinese, ma solo con il 13% delle azioni. Il resto di queste azioni è nelle mani delle grandi banche e dei grandi fondi di investimento anglo-americani, BlackRock, Vanguard, State Street, la HSBC, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, che è una banca molto radicata nel mondo asiatico, addirittura in Cina all'interno della sua sede c'è una sezione del Partito Comunista cinese, ma che è una banca londinese, fondata nel 1865 da un finanziere scozzese che commerciava con l'estremo Oriente, quindi una banca assolutamente inserita nel sistema di potere della City londinese, ma che è particolarmente forte in Cina. Questa HSBC, particolarmente forte in Cina, vede all'interno del suo azionariato anche lei i soliti grandi fondi, BlackRock, Vanguard e persino la banca centrale di Norvegia, che attraverso il suo fondo sovrano acquista azioni, e che troviamo in tutto il mondo le acquista, e che troviamo spesso al fianco di BlackRock, Vanguard e gli altri, negli azionariati delle più importanti aziende farmaceutiche, militari, finanziari. Dopo vi dirò perché è particolarmente importante questo accenno che faccio alla banca centrale di Norvegia, a Nords Bank, che troviamo appunto nel capitale della Hong Kong e Shanghai Banking Corporation. Potrei continuare, potrei citarvi, e lo posso fare, la People's Insurance Company, cioè una delle più grandi compagnie assicurative cinesi, che vede al suo interno un fondo che si chiama National Council for Social Security Fund, quindi una sorta di fondo assicurativo cinese, di grande fondo assicurativo cinese, ma troviamo insieme a questo gli altri azionisti, Vanguard, BlackRock, la banca centrale di Norvegia, la Capital Management, che è un altro fondo gemello dei nostri BlackRock e Vanguard e così via. Mi fermo qui, potrei continuare a lungo, cioè praticamente le grandi banche cinesi, i grandi fondi assicurativi cinesi sono copartecipati dallo Stato cinese e dalle grandi banche d'affari, i fondi di investimento anglo-americani. Proviamo a passare a quello che in questo momento dovrebbe essere il più grande nemico dei paesi occidentali della Nato, e cioè la Russia. Diamo ad esempio forse il più importante istituto finanziario bancario russo, che è la Sberbank, e vediamo chi sono gli azionisti. Nella Sberbank il 52% delle azioni sono in mano al governo russo, ma l'altro 48% è in mano ai soliti fondi, BlackRock, Vanguard, JP Morgan e persino anche qui la banca centrale di Norvegia, all'interno di Sberbank. Diamo, e chiudiamo su questo, a Gazprom, cioè l'azienda che in questo momento è il fulcro del terribile conflitto per procura in Ucraina, fra i paesi occidentali in particolare quelli europei e la Russia. Gazprom è l'azienda russa dalla quale acquistiamo il gas, che abbiamo capito essere esiziale in questo confronto tra la Russia e i paesi occidentali. È attraverso Gazprom che si regolano i flussi di gas che in questo periodo vengono alcuni giorni, alcune settimane fortemente diminuiti per i paesi europei. La nostra Gazprom ha nel suo azionariato il 50% delle azioni che sono in mano al governo russo, ma l'altro 50% anche in questo caso è in mano a una miriade di fondi di investimento che sono i soliti, BlackRock, Vanguard, JP Morgan e persino la banca centrale di Norvegia. Perché cito così con particolare sottolineatura la banca centrale di Norvegia? Perché questa attraverso il suo fondo sovrano acquista asset finanziari in giro per il mondo insieme a BlackRock e Vanguard e fra pochi mesi il governatore della banca centrale di Norvegia già designato sarà quel Jens Stoltenberg che attualmente è il segretario generale della Nato. Quindi fra pochi mesi il segretario generale della Nato si troverà a guidare un istituto finanziario, la Nords Bank, che è dentro le più importanti aziende e banche di Cina e Russia a cominciare da Gazprom. Voi capite che siamo di fronte a un gioco di specchi, a un gioco di ombre, dalle quali il cittadino medio viene completamente ingannato, che crede che i propri governanti tutelano gli interessi nazionali e poi avvengono questi giochi, questi intrecci tra il governo russo, il governo cinese, istituti finanziari russi, istituti finanziari cinesi e il grande capitale finanziario anglo-americano. Addirittura abbiamo che il segretario generale della Nato andrà a dirigere un istituto bancario che è dentro gli azionariati di Gazprom, Sberbank e di alcuni altri importanti istituti di credito anche cinesi. Nello studio che ho condotto per realizzare il libro sono arrivato alla conclusione che non è neanche vero che gli Stati siano condizionati da i grandi attori finanziari internazionali, ma che il potere del denaro che si dispiega attraverso fondi di investimento e grandi banche, i governi, l'apparato militare industriale, e la stessa sanità siano strumenti diversi di un unico potere, di un'unica classe dirigente internazionale. E Jens Stoltenberg ne è la dimostrazione. Ha servito il potere politico come primo ministro di Norvegia, oggi serve il potere militare come segretario generale della Nato, domani servirà il potere finanziario addirittura all'interno di Gazprom e di banche cinesi, come governatore della Banca Centrale di Norvegia. Noi crediamo di vivere all'interno di Stati che si contrappongono per tutelare gli interessi nazionali, in realtà il potere è concentrato nelle mani di una ristrettissima classe dirigente internazionale, che non fa distinzione di confini tra Cina, Russia e paesi occidentali. Capite che questo è fondamentale per comprendere ciò che avviene sulle nostre teste ed evitare di prendere degli abbagli clamorosi, per cui crediamo che i buoni siano da una parte anche a livello internazionale e i cattivi dall'altra. Ricordatevi che è un gioco di ombre e un gioco di specchi totalmente intrecciato.